È arrivato il tempo della giornata dell'incontro con l'autore. Allora prima di arrivare all'autore e al suo volume una frase vi leggo che vergolettata dice un manuale di buone pratiche quotidiane che si legge in un fiato avendo il potere di unire la profondità dei temi con la semplicità della narrazione. Capite che ci sono tutte le caratteristiche e le qualità per dire ma di quale libro stiamo parlando? È un commento scelto sui social non scritto da me o da altri critici ma scelto sui social al libro ve lo faccio anche vedere eccolo qua poi lo vedremo meglio strada facendo è il potere della leggerezza semplificare la vita vincere le paure smettere di rimandare tre comandamenti ben precisi Baldini e Castoldi è l'editore l'autore Francesco Fabiano. Lo conoscete già come un mental coach come un formatore un docente un autore ma è anche tanto di più che cercheremo di scoprire oggi nella nostra colloquiale conversazione con Francesco che avremo tra di noi subito dopo la sigla. E allora benvenuto a Francesco Fabiano un piacere conoscerti personalmente ma già ti conosco attraverso i tuoi libri. L'ultimo di quali eccolo qua questo il potere della leggerezza senti quando si parla di leggerezza vengono in mente tante cose Francesco no da Calvino a Kundera tantissime ma andiamo con ordine perché ti sei deciso non a scrivere questo libro ma a scrivere questo libro su questo tema dando questo titolo. Bene Claudio innanzitutto ti ringrazio moltissimo per la tua ospitalità per il tuo invito è veramente un piacere confrontarmi e conversare con te che sei esperto oltre che di arte di cultura e di come dire di società anche ti so un profondo conoscitore indagatore dell'animo umano e quindi sono doppiamente contento di chiacchierare con te. Senti allora adesso mi sto arrossendo un pochettino a parte il fatto che c'è il rosso le spalle di My Generation noi abbiamo tante pubblicazioni ognuna la coloriamo diversamente. Allora senti dici e scrivi due sono le azioni necessarie per migliorare il nostro approccio complessivo alla vita la prima è quella di togliere peso la seconda è acquisire leggerezza e le metti in questo ordine preciso adesso spiegaci qualcosa di più. Sì guarda nello scrivere questo libro sono partito dal mio mestiere dalla mia professione io diciamo per professione mi occupo di aiutare le persone ad esprimere il meglio tirar fuori il meglio da loro stesse. E nei miei percorsi di formazione in ambito aziendale ma anche dei percorsi individuali one to one che faccio e che costruisco con imprenditori con professionisti con atleti con artisti aiuto proprio le persone a tirar fuori il meglio le migliori risorse le migliori potenzialità da loro stessi. Nel mio percorso di lavoro mi sono accorto negli anni perché ormai è un mestiere che faccio da oltre 12 anni mi sono accorto che il freno più grosso che abbiamo che ha ognuno di noi sono i pesi che ci portiamo dietro cioè ognuno di noi nella propria professione nella propria vita negli affetti nel riuscire a far sbocciare esprimere il meglio le proprie potenzialità è in qualche modo limitato da una serie di pesi che abbiamo che ci schiacciano che ci si tengono a terra e spesso sono pesi inconsapevoli di cui noi non riusciamo neanche a cogliere o a comprendere l'entità e la presenza. Riesci magari a farci già qualche esempio di peso che sentiamo hai detto però una vastissima gamma umana e credo che per ognuno di essi ci siano di pesi specifici precisi ma in generale cos'è che in genere ci è di peso Francesco? Allora i pesi che ci frenano e ci rallentano sono io nel libro provo a costruire una mappa una mappa dei pesi in modo che ognuno di noi si possa confrontare e possa capire anche meglio singolarmente come dicevi tu perché il percorso della vita è unico per ciascuno di noi ma possa conoscersi meglio e capire meglio a quali pesi può cominciare a provare a diciamo a sollevare da dentro di sé a eliminare a ridurre. I pesi sono sostanzialmente di tre tipi io le chiamo zavorre anche no? Hai presente? Certo, certe volte sono anche molto pesanti. Bravissimo, bravissimo. Funzioniamo un po' come una mongolfiera volendo semplificare. Per prendere il volo abbiamo bisogno di lasciare a terra un po' di zavorra. Sono tre nel senso che c'è una zavorra legata al passato quindi alle esperienze che abbiamo vissuto che ahimè a volte ci condizionano. Una ferita, una delusione, un fallimento, un periodo difficile che restano dentro di noi, non riusciamo in qualche modo a superarle, a liofilizzarle, a renderle come dire anche a farle di esperienza, a farne tesoro, ma rimangono dentro di noi e in qualche modo ci gravano e ci impediscono di esprimere qualche cosa di fresco, di nuovo e anche di intercettare delle nuove opportunità. Sono le famose convinzioni autolimitanti, sono le percezioni proiettive nefaste come le chiamo io, nel senso che a volte un'esperienza negativa, un incontro andato male, determina dentro di noi la convinzione che in quell'ambito non siamo capaci o con quel tipo di persone sono persone con cui non riusciremo mai a costruire. Quindi ci autocreiamo a volte e alimentiamo da soli dei pesi che poi in qualche modo ci frenano e ci limitano. E quindi tutto questo che cosa comporta? Che quel traguardo minimo per vivere bene, che è vivere con leggerezza, che poi significa un poco di disincanto, un poco di levità, addirittura prendendo spunto da Calvino, come non prendere spunto da Calvino e delle sue lezioni americane, lui dice quanto alla leggerezza, e tu giustamente dici attenzione che non è superficialità, planare sulle cose dall'alto, ecco la tua mongolfiera, non avere macigni sul cuore. Beh sono due termini precisi, planare dall'alto e non avere macigni, e quei macigni di cui tu parlavi pesano spesso anche sul cuore, soprattutto nell'ultimo periodo. Allora, la raggiungo questa leggerezza? Sì, sì, appunto bisogna prima individuare i pesi, abbiamo detto, ci sono poi pesi legati non al passato ma al futuro, e quindi ce la farò, sarò in grado di affrontare questa sfida, ho sufficiente energie, disponibilità di tempo, di risorse, sono nel momento giusto, ho le persone intorno a me adatte, e quindi ognuno di noi vive questi pesi che sono di tipo proiettivo verso il futuro. C'è un paragrafo specifico in cui parlo della preoccupazione, che ormai ai me ci attanaglia tutti quanti, e cioè quel freno che ci fa preoccupare, pre vuol dire prima che accada qualcosa, di qualche possibile conseguenza negativa. E la preoccupazione è un freno potente, che ci impedisce di fare, di cambiare, di metterci in cammino, di metterci in gioco, perché il timore che qualcosa possa non andare come vorremmo, è anche quello un freno potente che ci immobilizza e che ci rende appunto in qualche modo sterili di fronte alla realtà. Quindi ci sono dei pesi del passato, dei pesi che anche inconsciamente abbiamo, ognuno di noi ha, rispetto al futuro, e anche qui il gioco interessante che propongo, che suggerisco lungo tutto il mio libro, è quello di individuarli e cominciare un pochino a eliminarli, a toglierli, perché si può fare, si può diventare più leggeri. La cosa importante è che tu ci dica che si può ottenere il risultato, questa è la cosa più importante. Senti Francesco, parli di sostenibile leggerezza dell'essere e paragrafi, così il celebre romanzo di Kundera del 1982, l'insostenibile, per lui era insostenibile. Allora, con quel leggero aggiustamento, tu aggiungi positività a questo concetto, no? Togli la negatività che era presente in Kundera e aggiungi questa positività. Rivalti un po' con quel paradigma. Ecco, motivandolo come? Perché è più facile, secondo te, di come la pensava Kundera, raggiungerlo in traguardo della felicità? Allora, perché la leggerezza è un volano, è un'energia molto potente, nel senso che, proviamo a pensarci un attimo, chi rimane sul colpo, cioè chi si appesantisce e fatica a superare una condizione, una situazione, pensiamo a quello che abbiamo passato negli ultimi anni, no? Certo, certo. È stato assolutamente un fatto, diciamo, che in qualche modo ha appesantito un po' la mente, il cuore di ciascuno di noi. E anche qui ci sono persone che hanno velocemente cambiato pagina e c'è chi di noi fa un po' più di fatica, no? A smarcarsi dal passato e a smarcarsi da alcune condizioni che in qualche modo ci tengono un pochino attanagliati a terra. Quindi la leggerezza e acquisire più leggerezza significa essere più veloci nel superare le difficoltà, essere anche più semplici, perché spesso ci autoagrovigliamo da soli, no? Nell'analisi della vita, delle situazioni, anche, diciamo, delle possibilità che abbiamo di fronte. E facciamo un po' tutto noi, ci giochiamo tutto nella nostra testa. Complichiamo faccende che per il 99% è molto più funzionale, più efficace, riuscire a rendere invece a vivere in modo semplice, sia nelle relazioni, negli affetti, ma anche nel nostro lavoro. Assolutamente. Tu dici che la leggerezza però è un dono da una parte, un'arte da una parte, però da bravo mental coach quale sei e stratega della comunicazione, tu stesso dici anche sapere usare una capacità che si può acquisire e ci si può allenare. Ecco qua, secondo me tocca un punto nevralgico di chi come te, ma anche un poco come me da giornalista, se vuoi facciamo comunicazione. Noi sappiamo che c'è sempre una tecnica sotto, una tecnica che è acquisita, che è strutturata in te e che hai la capacità stupenda, enorme, di comunicare agli altri. Allora, questa tecnica, come la faresti, come si forgia una persona con un minimo di tecnica a disposizione, senza andare semplicemente sull'afflato, su vogliamoci bene, su dobbiamo aprirci? Che tecnica utilizzare? Ma ci sono tante tecniche che ci aiutano ad esprimerci in modo molto più interessante, più efficace e che non a caso attingono tutte a questa grande energia della leggerezza. Prima citavo la semplicità, imparare anche a parlare in modo semplice, è chiaro, è controintuitivo, perché a volte pensiamo che più utilizzo un linguaggio forbito, criptico, dei termini, come dire, complessi, e più gli altri avranno di me una percezione maggiore. Invece funziona esattamente all'opposto, cioè vincono nella comunicazione coloro che riescono a essere semplici e chiari e quindi essere comprensibili a più persone possibili. Per arrivare a questa consapevolezza e quindi fare degli esercizi anche per riuscire a essere semplici e chiari, bisogna passare proprio da questa autopercezione di noi, autoanalisi, e individuare quegli aspetti che ci rendono invece un po' più complessi, un po' più farraginosi, un po' più labirintici e cominciare a limarli, quindi a toglierli dalla nostra comunicazione, ma anche dalla nostra capacità di gestire le emozioni, ad esempio. Io lavoro tanto sulla spontaneità, cioè è fondamentale riuscire ad essere il più possibile spontanei, però anche la spontaneità come tu insegni, come si insegna a teatro, va costruita. Va costruita, cioè bisogna capire come riuscire a tirar fuori veramente la spontaneità e quindi fare degli esercizi, fare delle prove, mettersi allo specchio, avere qualcuno che ti guida, ti aiuta, ti mostra le possibilità. Come tutte le cose nella vita, quelle più interessanti necessitano di un pochino di impegno e un pochino di passione. Mentre tu parli, Francesco, e condivido pienamente quello che stai dicendo, mi va in mente la fatica che facevo io quando nelle precedenti vite, ognuno di noi, anche tu, hai fatto delle vige precedenti, facevo il comunicatore in sanità da capovigio stampa di aziende importanti. Ebbene, la fatica che più facevo era quella di dire ai miei medici vedete di parlare il medichese meno possibile, perché quello è un filtro che c'è tra di voi e il paziente, che deve essere il centro della cura. C'è un altro concetto che mi piace, che nel tuo volume lo faccio, lo tengo in mano, perché a me i libri piacciono in mano, odorarli e sentirli, però facciamone vedere per bene anche la cover, la copertina, eccola qua. C'è un altro aspetto che è quello dell'ascolto, che tu citi nel tuo libro. Io mi sono segnato tutto in giallo, in rosa, le cose, ma adesso non ho il tempo, ma vedi che vado a memoria. E fai capire al mondo che ti sta ascoltando, che tanto è variegato, che udire è una cosa, ma saper ascoltare è un'altra cosa. Anche qua una tua riflessione, Francesco. Perché il nostro lavoro, come vedi, è anche quello di farci ascoltare. Assolutamente. Abbiamo detto l'ascolto è fondamentale in tutte le relazioni umane, perché spesso ci dimentichiamo, no? Che pensiamo che comunicare significhi solo parlare. Invece la comunicazione, se vuole essere un dialogo e non un monologo, deve prevedere anche un momento in cui io ascolto. Altrimenti, come dire, si cade nel monologo, o peggio ancora nel soliloquio, cioè quando si parla da soli con se stessi. Quindi l'ascolto è l'elemento fondamentale che ci aiuta a entrare in relazione con gli altri. Se io voglio costruire con qualcuno, se voglio giocare di squadra, se voglio essere un bravo coach, allenatore, capo reparto, devo non solo parlare, dire come la penso, come gli altri devono fare, qual è la mia direzione, ma anche devo saper ascoltare dagli altri dove sono, in che cosa hanno timore o paura, quali sono le loro caratteristiche, i loro perché, le loro domande. Quindi l'ascolto è l'elemento fondamentale per entrare in una relazione profonda e fertile con gli altri. Volevo soltanto dirti che non commettiamo l'errore inopinato di non dare un appuntamento al pubblico di Verona, perché tu sarai alla Feltrinelli di Verona, in via Quattro Spade, la bella traversa che tutti noi veronesi, perché sono un veronese, anche se di antica stirpe umbra, conosciamo bene, è una traversa di via Mazzini, ma la Feltrinelli la conoscono tutto. Tu ci sarai con questo tuo libro e avrò il piacere di conversare con te anche in quella occasione. Il prossimo lunedì alle ore 18. Allora, ricordiamo, dico bene la data, Francesco? Sì, non è il prossimo, è tra due lunedì, è il 27 di marzo. Lunedì 27, diciamo lunedì 27, marzo alle ore 18. Tra l'altro lì potremo conversare a lungo e quindi ti chiederò anche dell'anedotica, perché un poco adesso te la tiro fuori, perché chi è l'ascolto, le signore, che soprattutto sono ascolto quando prima hai detto anche coach, di artisti, eccetera, qualche nome ce lo puoi fare, o è vincolato alla private, se sei vincolato alla private ci mancherebbe. Ma invece se ci fosse qualche aneddoto, perché non dirlo? Sì, 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 io ovviamente c'è un vincolo, nel senso che io per deontologia professionale... Eh, certo, immagino. Ma stiamo larghi, stiamo leggeri, stiamo leggeri, con leggerezza. Qualche aneddoto che puoi raccontarci, c'è? Sì, ma ci sono tanti aneddoti nel mondo dello sport e dell'arte. Ho lavorato con alcuni artisti, anche molto noti, i quali hanno spesso, come si dice, ma è anche un elemento di realtà, hanno una spiccata sensibilità. e questa sensibilità per le emozioni, per tutto quello che riguarda il mondo, appunto, dell'intangibile, dell'immateriale, no? Questa sensibilità si traduce spesso e anche in caratteri molto fragili o molto bizzosi, o molto, in qualche modo così, che cambiano umore frequentemente. E quindi con alcuni di loro ho lavorato per aiutarli a trovare una stabilità emotiva, emozionale, direi ancora meglio, e capire come sfruttare, appunto, in questo punto di equilibrio, perché quando ciascuno di noi è in equilibrio con se stesso, rende tre volte di più, cioè molto più forte, più sicuro, più sereno. E questo equilibrio, appunto, che è un equilibrio interiore, che si riflette poi nella relazione anche con gli altri, trovare questo equilibrio non è facile per nessuno di noi, men che meno per artisti o persone, diciamo, di grande fama o notorietà, che anche se non sembra dall'esterno, ma hanno delle grosse responsabilità, hanno dei momenti, come dire, catalizzano anni e anni di attività, e non di rado mi è capitato di aiutare ciascuno di loro, ad esempio, ad affrontare anche il pubblico. E questo può sembrare strano, quella bestia nera, quella bestia nera del pubblico. Bravissimo, bravissimo. E proprio gli momenti prima di entrare su un palco o di scendere in campo per una finale importante sportiva, sono i momenti in cui anche grandi artisti o grandi sportivi sentono il peso della pressione. E questo peso può addirittura far perdere la voce, può far tremare le gambe, o può impedirci di rendere come potremmo. E quindi questo è un altro punto che riguarda in qualche modo tutti noi, perché ognuno di noi poi ha avuto a che fare e ha a che fare con esami, con momenti delicati della propria vita, nei quali si sente la pressione, il peso, e più riusciamo a togliercene un qualchetto e più il nostro procedere migliora sensibilmente. Allora, senti, ho il tempo ancora per farti una ultima domanda, ma intanto mostriamo ancora a questo tuo libro Il potere della leggerezza, semplificare la vita, vincere le paure, smettere di rimandare, dando appuntamento all'unità di 27 marzo alle ore 18 alla Feltrinelli, dove ci sarà Francesco Fabiano e avrò il piacere di rincontrarti dal vivo e quindi di sfrucugliarti ancora un attimino all'interno del tuo vastissimo mondo. Ma l'ultima domanda, Francesco, a prescindere dalla leggerezza, vorrei che fosse, diciamo, non dico seriosa, né seria, però pacata, e cioè, tu sai, tutti noi sappiamo in quale mondo stiamo vivendo, il timore del futuro, come dicevi tu, c'è, il nostro tempo ci sta riservando tristezze e drammi. Allora, per non sembrare che noi si voli sulle nuvole, ma che invece proprio la leggerezza può esserci di aiuto per affrontarlo, allora, come accogliere il cambiamento che sta avvenendo, i cambiamenti che sta avvenendo per trovare dentro di noi e anche nei confronti degli altri una via d'uscita e vivere comunque bene? Ecco, dacci quest'ultimo consiglio. Credo che sia giusto terminare in questo modo. Molto volentieri Claudio, guarda, il consiglio è quello che do nelle ultime tre pagine del libro e cioè non avere paura di mettere ogni tanto la testa tra le nuvole, cioè di coltivare dei sogni, di avere, di anche fantasticare, perché è un motore fondamentale della nostra vita e si dice, molti saggi dicono che si smette di vivere quando si smette di sognare e per cui se vogliamo dare linfa alla nostra vita, non abbiamo paura di sognare, di fare dei progetti anche ambiziosi, anche stupidi, anche divertenti, però il sogno e l'immaginazione sono la calamita che ci porta nel futuro e come dico spesso per avverare un proprio sogno bisogna prima averlo sognato. Ah, bellissimo. Ecco, ho fatto bene allora a farti quell'ultimo, ero incerto di che farte, ma ho visto che ho fatto bene. Sarà un piacere altrettanto grande quando potrò conoscerti di persona appunto alla Feltrinelli, diamo ancora l'appuntamento per il lunedì 27 alle 18, ma è già stato un grande piacere averti conosciuto e aver parlato con te oggi in questa nostra pubblicazione. Buon lavoro Francesco, è presto allora. Grazie mille Claudio, a prestissimo, grazie ancora. Grazie a tutti.